La strada sud è stata definitivamente accantonata, stralciata dalla prossima variante del piano regolatore come hanno chiesto attraverso un ordine del giorno presentato da Luca Burgazzi, tutti capogruppo di opposizione. La votazione del Consiglio Comunale è avvenuta dopo una seduta a fiume iniziata alle 3 del pomeriggio e arrivata solo attorno alle 19 a trattare lo spinoso tema che riguarda la viabilità di Via Giordano racchiusa in due ordini del giorno e una mozione che sono state discusse in modo unificato. Alla fine i numeri hanno deciso, con 15 voti contrari e 3 favorevoli, cassatele a mozione presentata da Maria Vittoria Ceraso con la quale la consigliera di obiettivo per Cremona chiedeva di temporeggiare, trovare prima una soluzione alla viabilità di Via Giordano e poi accantonare il prospetto ormai vecchio di 30 anni. Bocciata anche la mozione di Federico Fasani di NCD che ha accusato il PD di posizioni ideologiche stigmatizzato come l'ordine del giorno presentato da Burgazzi fosse un modo per fare la conta delle posizioni interne al partito. La votazione si è ribaltata con 15 voti a favore e 3 contrari quando si è trattato proprio il documento presentato dalla maggioranza che ha impegnato la Giunta al rispetto del programma elettorale archiviando un'opera giudicata archeologia industriale. Ora il tavolo è sgombro da quella che alcuni come Paolo Carletti hanno definito truffa politica oppure un barbatrucco cioè l'immobilismo amministrativo che sventolando da un lato la presenza di una soluzione in un cassetto e dall'altro la volontà di non realizzarla ha tenuto tutti tranquilli, residenti da un lato ed ecologisti dall'altro. Dunque ora si riparte quasi da zero dall'unica proposta ancora in essere quella della riqualificazione di Via Giordano presentata dall'assessore Alessia Manfredini con il restringimento della carreggiata, doppia pista ciclabile, rotonde e rallentatori.